una notte storica per i berlinesi per il mondo intero 50.000 persone hanno varcato il muro da est verso ovest accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa e le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro. Ero a casa appresi la notizia guardando la televisione insieme a mia madre la sensazione dico una banalità assoluta fu quella della fine di un'epoca però era un po di giorni insomma che il clima si era particolarmente acceso e per quel sensazione mista di liberazione e di preoccupazione perché non si capiva bene che cosa stesse accadendo insomma c'erano questi fiumi di persone che nei giorni precedenti cercavano di abbandonare la Germania orientale. Nonostante il clima internazionale fosse cambiato essendo io nata e cresciuta al tempo della guerra fredda in cui la divisione del mondo in due blocchi ideologici opposti pareva un dato di fatto difficilmente superabile. Il muro era il simbolo impenetrabile di quella divisione in blocchi. La portata storica del 9 novembre 1989 è stata enorme. Quel giorno il governo della Germania dell'Est annunciò che le visite nell'Ovest sarebbero state permesse. A Berlino i cittadini dell'Est si accalcarono e si arrampicarono sul muro e così iniziò la sua caduta. Era la fine della guerra fredda. Con il muro sarebbe crollata due anni dopo anche l'Unione Sovietica. Per molti fu inaspettata perché l'Unione Sovietica aveva abituato alla dottrina Brezhnev, cioè alla dottrina della sovranità limitata, all'intervento militare in quei casi in cui i paesi socialisti, le democrazie popolari davano vita a forme autonome di socialismo. Il caso che più colpì sotto questo profilo fu forse proprio la primavera di Praga perché fu una sorta di chiusura di un ciclo. La Cecoslovacchia è stata invasa. Questo è il drammatico, gravissimo annuncio che è avvenuto in nottata e che ha colto il mondo di sorpresa. Le truppe del patto di Varsavia, cioè i reparti militari sovietici, bulgari, ungheresi, polacchi e tedesco orientali, sono penetrati attraverso le frontiere cecoslovacche, impadronendosi delle città principali e occupando praticamente l'intero territorio della Repubblica Cecoslovacchia. E quindi in questo senso ci si arrivò perché Gorbaciov, che era allora il segretario del Partito Comunista Sovietico, rifiutò sostanzialmente di utilizzare la dottrina Brezhnev e di non sostenere i gruppi dirigenti della DDR, che erano gruppi dirigenti per i quali era fondamentale il sostegno sovietico e quindi l'appartenenza all'alleanza che c'era dietro. Mr. Gorbaciov, Mr. Gorbaciov, tear down this wall. Ma credo che più in generale sia il fatto che proprio gli accordi internazionali firmati a Helsinki nel 1975 vedevano nel rispetto dei diritti umani un elemento fondamentale, quindi questa fu una leva alla quale poterono agganciarsi i nuovi leader del dissenso sovietico, ma anche dei paesi socialisti, soprattutto dei paesi socialisti in particolare, per esempio, penso ad Avel nella Cecoslovacchia, penso a Solidarnosc, che dalla fine degli anni 70, dei primi mesi del 1980, segnò certamente una svolta nel mondo comunista. E quindi in sostanza fu la capacità della distensione di dare vita appunto ad una forma di collaborazione con l'Est che, in un certo senso, imbrigliava i paesi dell'Est al rispetto di un elemento che diventava centrale, che era appunto il rispetto dei diritti umani. Hobsbawm, per esempio, fa finire con l'Unione Sovietica, con la fine dell'Unione Sovietica, il Novecento. È più complesso, però, forse ad una distanza qual è quella che noi oggi abbiamo. Credo che, come dire, finisce il secondo dopoguerra, questo sì, finisce, cioè quella fase di accelerazione della transnazionalità, che però si svolge, come dire, dominata dai due grandi blocchi, i quali si sfidano intorno a quale modello sia più efficace, più risponda alle esigenze di un mondo che diventa sempre più piccolo. Fu un anno di eventi molto accelerati, insomma, e quindi di palese evidenza del fatto che quel muro era stato costruito nel 1961 per tentare di contenere la fuga da Est dei cittadini tedeschi. E quindi era una Berlino sulla quale, appunto, si rifrangeva la divisione della Guerra Fredda, intesa però, ecco, in una dimensione che era non semplicemente, come dire, di politica di potenza, ma anche di confronto tra modelli sociali, politici, culturali ed economici profondamente diversi. E quindi la Berlino del novembre del 1989 fa capire che c'è un passo in avanti molto rapido sulla via della transnazionalità, insomma, della globalizzazione. Il processo di unificazione è stato complesso. Una delle questioni aperte era quella economica, perché le differenze tra le due Germanie erano forti. Il rischio che una parte prendesse il sopravvento sull'altra non è stato sventato. Molti cittadini dell'Est, che avevano vissuto sotto un regime dittatoriale, ma dotato di un welfare diffuso, si trovarono, di colpo, senza lavoro. La conversione all'economia di mercato ebbe effetti devastanti per la popolazione attiva orientale. Tra il 1989 e il 1992, nei nuovi Bundesländer, sono andati persi 4 milioni di posti di lavoro, un fenomeno che tra l'altro ha colpito particolarmente la popolazione femminile, senza che sorgessero in uguale misura nuove possibilità occupazionali. Vi si aggiunge poi una crescente dequalificazione professionale, un aumento del lavoro precario. Ancora nel 2006 la desoccupazione nei lender orientali toccava il 18,3% contro l'8% dei lender occidentali. E le ripercussioni sullo sviluppo demografico sono state notevoli, perché dal 1990 la quota delle nascite nei territori della Deder si è dimezzata. Quasi 2 milioni e mezzo di Ostdeutsche, di tedeschi orientali, sono emigrati nei lender occidentali, ed era la popolazione più giovane e qualificata. I lender orientali erano arretrati di decenni per capacità produttive, competitività, innovazione tecnologica, reddito e consumi. La promessa di elevare gli standard economici a un livello occidentale implicò uno sforzo enorme di adeguamento. Non si trattava poi soltanto di modernizzare strutture arretrate, ma di convertire un ordinamento collettivista all'economia di libero mercato. Occorreva poi riformare il sistema bancario e creditizio, la tassazione, la contabilità delle aziende, il sistema pensionistico. Nel giugno del 1990 fu istituita la Treuhand Anstalt, cioè l'ente con il compito di ristrutturare 8.500 imprese di proprietà dello Stato della Deder. E la privatizzazione del patrimonio pubblico della Deder fu seguita da una lunga scia di polemiche, accuse di colonizzazione, di spartizione di un patrimonio comune alla stregua di un bottino. Se nel 1989 l'ingresso nella Bundesrepublik fu accolto con chiare manifestazioni di consenso, già poco tempo dopo la riunificazione veniva reinterpretata come un atto di annessione. Successivamente è subentrato una fase di accettazione rassegnata in cui l'indubbia capacità di adattamento era però accompagnata da un diffuso malcontento. Nonostante l'unificazione sia avvenuta in modo straordinariamente rapido, esente da conflitti, la convergenza di nuovi e vecchi Bundesländer è stato un processo lento, difficoltoso, che da 15 anni si è fermato. Il quadro della società tedesca presenta ancora quindi un confine interno est-ovest non più come un muro, ma come un grande fossato, un oiato che a molti pare incolmabile. Nelle nuove generazioni il sentimento di ostalghi è scomparso, ma è stato soppiantato da un nuovo sentimento di orgoglio Ostdeutsch, un'identità regionale positiva non più nostalgica, ma patriottica e nazionalista. In questa prospettiva diventa comprensibile la ragione dell'attrattività esercitata da partiti come AfD sulla popolazione orientale. La polemica antisistema di questa nuova destra radicale è la rivendicazione di un nuovo nazionalismo che ha tra le sue radici culturali proprio quel patriottismo che era stato insegnato nella DEDER. Con quel suo slogan Wir sind das Volk siamo noi il popolo il populismo di destra tedesco non intende soltanto esprimere la propria polemica contro l'establishment autolegittimandosi. Con questo slogan opera anche una indebita appropriazione della rivoluzione democratica dell'89 in chiave di rivoluzione nazionalista. E' stato il primo funerale di Stato organizzato dall'Unione Europea quello celebrato a Strasburgo in onore a Helmut Kohl ex cancellere tedesco e uno dei padri della costruzione europea. Il feretro arrivato in mattinata dalla sua casa in Germania coperto con una bandiera europea è stato esposto nell'emiciclo dove sono stati pronunciati i discorsi ufficiali. Dall'unità nazionale tedesca conseguì la riunificazione del continente e il governo Kohl si trovò a gestire due grandi opere l'unificazione nazionale e l'intensificazione dell'integrazione comunitaria divenuta poi Unione Europea. Cogliendo l'opportunità offerta dall'inatteso svolgersi degli eventi il cancelliere Kohl forzò la situazione annunciando il 28 novembre del 1989 quindi poco settimane dopo l'abbattimento del muro il programma in dieci punti che avrebbe portato alla riunificazione nazionale in meno di un anno senza nemmeno interpellare gli stati membri della comunità europea. Kohl si dimostrò abile stratega nell'indicare come obiettivo del suo programma il superamento della divisione della Germania e dell'Europa cioè ponendo l'unità tedesca come prerequisito come condizione imprescindibile della successiva integrazione europea. Nell'ultimo secolo il cinema si è costantemente confrontato con Berlino luogo di suggestione memoria intrighi potere conflitti e anche di creatività al crollo del muro che attraverso la televisione era entrato in modo potente nelle case dei cittadini il cinema si è avvicinato in modo meno diretto ma costruendo racconti che sono ormai parte del nostro immaginario. Ripercorriamo questa storia dagli inizi Berlino ha avuto una storia cinematografica molto complicata nel senso che Berlino è stata negli anni 20 una delle grandi capitali del cinema mondiale nel senso che negli anni 20 diciamo negli anni appunto di Cracover negli anni della Repubblica di Weimar il cinema tedesco rappresenta in termini di forza industriale la seconda cinematografia dopo quella americana. Un po' la crisi economica la crisi della principale casa di produzione tedesca che è l'UFA già fa sì che alcuni dei grandi cineasti come per esempio Murnau tedeschi vadano a lavorare negli Stati Uniti e poi quello che dà il colpo finale è l'avvento al potere di Hitler che fa sì che un numero consistente di registi tecnici attori vadano a Hollywood. Dopo il 1945 Berlino come dire continua a essere al centro dell'attenzione dell'universo cinematografico ma in forme completamente diverse e nella Berlino ridotta a un fumulo di macerie che Rossellini gira uno dei film chiave del neorealismo e diciamo della nascita del cinema della modernità che è Germania anno zero in realtà proprio di film davvero importanti che parlino della caduta del muro non è che ce ne sono poi molti laddove però invece il muro diciamo quello solido ha una presenza fortissima dentro la storia del cinema anche perché il muro di Berlino è la rappresentazione fisica della guerra fredda e attorno diciamo alla guerra fredda c'è tutto un filone di cinema che sta diciamo tra il thriller e lo spionaggio che comincia praticamente con l'avvio della guerra fredda e che arriva fino a noi insomma siamo impegnati in una guerra ma questa guerra non si combatte per il momento con uomini armati ma con le informazioni c'è una novità importante abbiamo una spia sovietica vogliamo che la difenda lei io mi occupo di diritto assicurativo non seguo cause penali da anni la rappresentazione della guerra fredda cambia molto ovviamente con gli anni 70 cioè cambia il cinema cambiano le forme dello spettacolo hollywoodiano in qualche modo cambia anche il suo pubblico e quindi ci sono poi tutti i film sulla teoria del complotto e quindi insomma se uno si vede che ne so i tre giorni del condo di Henry Pollack la guerra fredda assume dei contorni molto più molto più sfumati in termini politici chi sei tu? ma che cosa fa qui? faccio il condo si eviti ammesso non concesso che il cinema di Weimar davvero anticipi l'avvento del nazismo non credo si possa dire che il cinema degli anni 80 abbia il presentimento della caduta del muro anche per una ragione molto semplice cioè che negli anni 80 nessuno ha il presentimento della caduta del muro cioè una delle cose più stupefacenti del crollo dell'unione sovietica è il fatto che i servizi segreti occidentali non ne avessero idea siamo molto prima degli anni 80 ma per esempio se uno guarda 2001 dicendo lo spazio è sintomatico il fatto che anche appunto in un futuro proiettato molto in avanti in cui ci sono le astronavi il mondo è ancora diviso in due blocchi ci sono gli americani ci sono i russi Kubrick come dire si immagina gli alieni ma non si immagina la caduta dell'unione sovietica e ancora negli anni 80 il muro continua a essere percepito come una realtà che non può essere messa in discussione e in realtà se uno va a vedere i piani del governo della Germania orientale erano quelli di continuare a implementare il muro cioè c'era l'idea che questo muro sarebbe stato lì per sempre in qualche modo che era una specie di muraglia cinese che era pensata per durare nei secoli una riunificazione come tale ovviamente diventa un argomento interessante davvero significativo soprattutto per il cinema tedesco allora da una parte c'è la riflessione su quella che è stata la realtà della The Dare e quindi che ne so parlando di film che hanno avuto un eco forte fuori nel contesto internazionale un film come Le vite degli altri è uno di quei film che provano a raccontare il mondo della Germania comunista L'altra possibilità se vogliamo è quello di agganciarsi alla cosiddetta nostalgia cioè alla nostalgia per l'est lo ost in tedesco e quindi Goodbye Lenin è un film tutto costruito su questo sul come stavamo meglio quando stavamo peggio insomma sul fatto che pezzi dalla società tedesca un po' lo rimpiangono quel mondo lì il paese che mia madre lasciò era un paese nel quale aveva creduto e che io ero riuscito a far sopravvivere fino al suo ultimo respiro un paese che nella realtà non era mai esistito che per me rimarrà sempre legato alla memoria di mia madre ma la lezione storica penso che sia questa che si possono alzare tutti i muri che si vuole ma i muri inevitabilmente cadono e del resto i muri che si alzano sono muri che tentano di difendere un mondo che non c'è più e che non tornerà come la pace di tutti ed ecco i primi colpi di piccone sollevano solo polvere per ora ma il muro questa visione caffiana e concreta di quella che una volta era la cortina di ferro da questa notte non esiste più la cortina di ferro la cortina di ferro la cortina di ferro ma la cortina di ferro le fontane di ferro Grazie.